Roma era probabilmente la civiltà perfetta, il mondo utopico in cui tutti vorrebbero vivere, una civiltà intramontabile che probabilmente non avrebbe mai conosciuto il proprio tramonto, che non avrebbe mai conosciuto il proprio declino, se non fosse stato per un manipolo di situazioni stravaganti e complicate che avrebbero inesorabilmente danneggiato la struttura sociale e politica romana. Oggi parliamo dei cinque miti, o meglio dei cinque falsi miti della caduta di Roma, già perché la caduta di Roma è oggetto di dibattito ormai da oltre mille anni, è una questione molto problematica, molto complicata, che comprende al proprio interno innumerevoli fattori sociali, economici, politici, ma che per alcune persone, che per alcuni teorici è riconducibile ad appena una manciata di fattori determinanti che sono gli unici poi responsabili della caduta di Roma. La crisi economica, la crisi sociale, la crisi politica stronzate, superficiali, banali. La vera responsabile, i veri responsabili della caduta di Roma sono i troppi stranieri nello stato romano, le donne, gli omosessuali, i cristiani e soprattutto l'eccessiva burocrazia. Allora, in questo episodio del podcast L'Osservatorio cerchiamo di capire realmente come sono andate le cose, in che modo questi cinque elementi non hanno giocato un ruolo determinante, ma hanno in qualche modo contribuito al declino della civiltà romana. Partiamo da le donne nello stato romano, che è qualcosa che in realtà non ho mai capito a fondo. Perché le donne sarebbero responsabili del declino di Roma? Secondo alcuni teorici la responsabilità del declino di Roma sarebbe legata al fatto che a un certo punto Roma inizia a nominare imperatori molto giovani e che quindi di fatto il potere viene affidato a delle reggenti, donne incapaci di governare e di amministrare lo stato romano che avrebbero quindi portato al lungo e inesorabile declino di Roma. In realtà non è proprio così che sono andate le cose, Roma conosce delle reggenti anche nelle fasi auree del proprio impero, nei primissimi anni del proprio impero. Ricordiamo che lo stesso imperatore Nerone, l'ultimo della dinastia Giulio Claudia, ha vissuto una fase di reggenza. E tra l'altro la fase aurea dell'impero di Nerone è proprio durante la reggenza, durante il forte contatto e il legame con le varie donne della sua famiglia. Poi viene la svolta autoritaria, Nerone prende per sé il potere e si trasforma nel mostro sanguinario, nel tiranno che abbiamo conosciuto che in realtà sono tutte ragioni argomentative per giustificare quello che era semplicemente un imperatore molto autoritario, molto aggressivo, che esercitava il proprio potere in maniera quasi totalitaria. Nerone si rende protagonista di uno scontro diretto con il senato ed è questo scontro con il senato che ha portato all'attribuzione dei titoli di pazzo, di folle, di tiranno a Nerone e il tentativo di cancellarlo poi dalla storia. A livello più ampio Roma conosce dei reggenti sia dal lato occidentale, quindi nella Roma occidentale, nell'impero romano che cade nel quinto secolo, che nell'impero orientale. Ed è qui che c'è la particolarità, perché nell'impero orientale le reggenti non vengono accusate di aver provocato la caduta di Roma, anzi alcune delle reggenti sono considerate delle vere e proprie imperatrici donne estremamente influenti che hanno portato proprio alla crescita e hanno permesso la sopravvivenza dell'impero orientale, quindi ecco, dire la colpa del declino di Roma e delle ronne è una stronzata fondamentalmente, la colpa del declino di Roma e degli incompetenti che non sono riusciti ad amministrare lo Stato e le varie situazioni di crisi politica, economica e sociale, che fossero uomini, che fossero donne, è totalmente irrivelante. Era la loro poca esperienza politica, la loro poca capacità amministrativa che ha portato alla fine il loro sesso, la presenza, il fatto che i loro organi genitali fossero interni o esterni non significava assolutamente nulla. Altri responsabili della caduta di Roma sono gli omosessuali perché si sa, gli omosessuali quando aumentano il pil cala e succede più o meno la stessa cosa anche a Roma, no, il pil di Roma cala, aumentano gli omosessuali e visto che ci sono tanti omosessuali in Roma si impoverisce e per questo, dai, la presenza degli omosessuali come causa scatenata del declino di Roma. Non si può sentire Roma che a livello storico ha avuto una certa tolleranza proprio per l'omosessualità, certo, tolleranza con determinati limiti e paletti legati al rango sociale. Fatto molto brevemente, poi se volete approfondire vi invito a dare un'occhiata ai video sul canale di YouTube, sul mio canale YouTube sull'omosessualità nel mondo romano, omosessualità che era in qualche modo tollerata se la parte attiva aveva un rango sociale più elevato rispetto alla parte passiva, in caso contrario era condannata, era fonte di scandalo, ma finiva lì, era solo una questione di scandalo. Che vergogna! Ma poi a livello politico non c'erano conseguenze reali, ognuno faceva quello che voleva con chi voleva, e nella maggior parte dei casi lo facevano di nascosto nelle proprie case senza che il resto di Roma lo sapese, quindi in realtà gli omosessuali, la casa scatenata del declino di Roma, non regge, diciamo, non regge come teoria. Consideriamo anche che poi tra le fila dell'esercito e gli accampamenti dei soldati vi erano sì delle prostitute, ma erano poche per soddisfare i bisogni di tutti i soldati e la maggior parte ricorreva a soluzioni alternative e giocavano tra virgolette, tra di loro, non entra troppo nel dettaglio, altrimenti mi chiudono il podcast, questa cosa che mi chiudono il podcast prima o poi dovrà finire. Altri responsabili della caduta di Roma ovviamente sono i cristiani, perché con l'arrivo dei cristiani Roma si è in qualche modo indebolita, l'esercito romano ha perso la sua mascolinità, la sua possanza, si può dire possanza? Non lo so, vabbè, facciamo che si può dire possanza. Ha perso il suo vigore, la sua virilità, no? È diventato cristiano, è diventato una pappa molla, u vogliamoci bene, non ammazziamoci, non combattiamo, perché ovviamente si sa che i cristiani sono tutti dei santi e che nessuno dei regni cristiani venuti dopo di Roma ha mai combattuto una guerra, le crociate non sono mai esistite, né crociate interne sono mai esistite, le guerre di religione, per carità, anche qui folle invenzione della massoneria, ovviamente, anche qui, attribuire la responsabilità della caduta di Roma al fatto che a Roma prenda piede una determinata religione e che poi questa delle religioni diventi religione di Stato. Beh, non è che tenga moltissimo, Roma dal punto di vista religioso per tanto tempo era stata estremamente tollerante, a Roma si praticavano le più disparate religioni e venivano incluse proprio nel contesto politico culturale romano, divinità provenienti dal mondo esterno, adattate ai miti romani proprio per favorire l'integrazione, tra virgolette, degli altri popolazioni. Ricordiamo che il culto dei Santi parte proprio da questa necessità di integrare questa sovrapposizione a livello culturale di religioni differenti, ma non entriamo troppo nel dettaglio. Altro responsabile della caduta di Roma, e qui effettivamente c'è una responsabilità, sono i burocrati, quei burocrati che hanno portato al fallimento. Non so perché lo sto dicendo così, quei burocrati che hanno portato al fallimento. La Repubblica, che fortunatamente è stata salvata da uomini forti e determinati, come Silla, Cesare e Ottaviano, e che poi si sarebbero presentati in età imperiale, portando al declino dello stesso impero. Questi burocrati, questi passacarte che sono così impegnati a cercare di risolvere un problema, di capire cosa fare, invece di farlo. Ecco, queste persone che sprecano tempo e risorse nel dibattito politico, che danno voce alla democrazia. Ovviamente la democrazia è un male assoluto per i sostenitori dell'impero romano. E dicevamo, questa democrazia che in qualche modo ha danneggiato Roma, perché le guerre sociali, le guerre civili ne sono un chiaro esempio, tensioni sociali che i burocrati non riescono a risolvere, e che si risolvono soltanto grazie alla presenza effettiva nello futuro romano, di uomini forti come Silla, come Cesare. Il fatto che uomini come Silla e Cesare siano i motori però delle guerre sociali, delle guerre civili, questo è irrilevante, totalmente irrilevante. Non importa sapere che Cesare combatti le guerre civili per interessi personali, per conseguire il potere personale. La responsabilità ovviamente non è dell'uomo che muove i soldati, ma di quello che non è riuscito ad impedire che quei soldati venissero mossi. La troppa burocrazia a causa scatenante del declino di Roma non regge neanche questa. Rimane l'ultimo punto che è quello più interessante, e l'ho lasciato per ultimo perché è quello che poi inserirò nel titolo. Roma caduta a causa dei troppi stranieri. È un qualcosa che spesso si sente nella storia, no? Troppi stranieri che arrivano, che contaminano la civiltà, che contaminano la cultura e che mettono in difficoltà lo Stato. Roma a livello storico ha conosciuto sempre l'inclusione degli stranieri, fin dalla propria età monarchica. In età monarchica ricordiamo che vi era il mito per cui un peregrino, uno straniero, un mercante potesse arrivare a Roma grazie alla propria abilità di commerciante, arricchirsi, diventare talmente ricco e influente da diventare re di Roma. Roma ha dei re stranieri. Roma è in età monarchica, quindi nella fase proprio embrionale della civiltà romana. Roma ha dei re stranieri, gente venuta da fuori, che si arricchisce, che conquista potere e influenza e viene proclamata re di Roma. Roma in età repubblicana conosce tantissimi mercanti stranieri che vengono inclusi nel proprio Stato e che arrivano a ricoprire cariche importantissime dello Stato. Per cariche importantissime dello Stato intendo senatori, consoli, magistrati di vario naturo, di vari livello. Molti uomini fanno carriera politica partendo dal basso. Lo stesso Cesare, che si apparteneva a un'antica famiglia romana, ma viene dal basso. Cesare non è un aristocratico romano. La fortuna di Cesare sta proprio in quella, nel fatto che viene percepito a livello politico dalla società romana come un uomo nuovo. È un uomo nuovo della politica romana. Di fronte a questi burocrati che si succedevano da decenni al potere, arriva Romani, arriva Cesare dal nulla e riesce a diventare console. L'inclusione dello straniero nella società romana è qualcosa che ha permeato tutta l'età repubblicana, tutta l'età monarchica e gran parte, anzi, tutta l'età imperiale. Roma, a un certo punto della sua storia imperiale, però, si trova costretta, per qualche ragione, a sostituire pezzi importanti del proprio esercito e ad affidare a degli stranieri il compito di proteggere e di preservare i confini. Questa avviene considerata da molti come la causa iniziale del declino di Roma, perché, si sa, questi stranieri che pattugliavano i confini di Roma hanno poi portato alla caduta dell'impero d'Occidente. E se, per quanto riguarda l'impero d'Occidente, può essere in qualche modo considerato vero, non va dimenticato che lo stesso avviene ad Oriente, che anche ad Oriente l'impero orientale include degli stranieri nel proprio esercito, affida agli stranieri la protezione dei propri confini, l'impero d'Oriente non cade. L'impero d'Oriente sopravvive per quasi mille anni dopo la caduta dell'impero d'Occidente e quindi parlare di stranieri che portano all'accordo di Roma forse richiederebbe qualche attenzione in più. Parlare, affrontare il tema degli stranieri che vengono inclusi nell'esercito a cui viene affidato proprio la salvaguardia dei confini, la protezione dei confini, richiede qualche attenzione in più. Magari richiederebbe qualche impasto indietro e chiedersi perché Roma affida proprio a loro il compito di proteggere i confini, perché non continua a fare quello che ha fatto per centinaia di anni, perché non affida ai propri soldati, ai propri legionari il controllo dei confini. La risposta è che affidare il controllo dei confini ai propri soldati tra virgolette romani costava tanto. L'esercito romano costa tantissimo, è una delle cose più costose mai concepite nella storia, è una macchina da guerra permanente che bruciava letteralmente soldi, non farò esempi sull'attualità ma bruciava veramente tantissimi soldi. Il Roma a un certo punto della sua storia si ritrova a vedere prosciugate le proprie casse. L'esercito romano assorbe progressivamente, lentamente, fin dalla riforma dell'esercito, fin dalla risorma dell'ordinamento militario fatta da Gaio Mario in età repubblicana. Parliamo di una riforma che è fatta prima dell'avvento dell'impero e che inizia a consumare letteralmente le riserve di Roma, continuisce a prosciugare le riserve di Roma, contribuisce a impoverire tra virgolette Roma, spinge Roma a diverse soluzioni in campo economico come una doppia politica economica, inflazioni a livello interno con svalutazione monetaria e all'esterno invece monete fatte totalmente d'oro per dare una parvenza di ricchezza e di potenza nei commerci esteri. Vi erano proprio due tipi di monete che circolavano con diverse percentuali di oro e di metalli preziosi nelle monete per l'uso interno e per l'uso esterno. Roma è impoverita dal suo esercito, un esercito che costa tanto e a un certo punto è costretta a tassare a livello agricolo per quindi poter sfamare tra virgolette i propri soldati, anche in zone dell'impero che per tantissimo tempo erano stati esenti dal pagare tasse, che erano state risparmiate da questa tassazione. Parlo dell'Italia, l'Italia per tantissimo tempo non versa paradiente, non paga le tasse per finanziare l'esercito, poi a un certo punto è costretta anche l'Italia a pagare le tasse. Roma ha una crisi economica, politica e sociale interna precedente quindi all'inclusione degli stranieri ed è questa crisi economica che Roma non riesce a risolvere che porta all'inclusione dello straniero nell'esercito. Non è il contrario, vi è un principio di caso effetto che non può essere invertito. La crisi economica romana porta all'inclusione dello straniero tra le fila dell'esercito, non è l'inclusione dello straniero che porta alla crisi economica, come invece sostengono i teorici di questa strampalata ipotesi secondo cui stranieri, donne, omosessuali, cristiani e burocrazia eccessiva avrebbero portato al declino di Roma. Non so se avete sentito quell'esplosione, credo mi siano esplosi i vicini. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo video podcast e vi invito a seguire il podcast L'Osservatorio su Spotify e iTunes ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Trovate tutti i link in descrizione, sempre in descrizione trovate il link per seguirmi su tutti i miei social network e soprattutto trovate il link per approfondire alcuni dei temi che ho trattato in questo episodio come l'omosessualità nel mondo romano, come gli stranieri nel mondo romano, come la burocrazia in età romana, temi che meritano un maggiore approfondimento. Vi ringrazio tutti per avermi ascoltato e nulla, noi ci vediamo la prossima settimana oppure lunedì con il podcast. Grazie a tutti per aver guardato, un saluto a tutti e giuro che la smetto poi di salutarvi.